ciao a tutti siamo ritornati in un nuovo video a creare lo slime ma io devo essere bendato ci mettiamo la benda io non vedo niente allora qua la ciotola prendiamo la colla la apriamo ecco la ciotola aspetta che faccio qua sto centrando non lo so ok basta così e la appoggiamo che casino dopo prendiamo l'attivatore non ora questa è la schiuma da barba basta così pochissima dopo dove sta glitter l'apriamo basta così dopo prendiamo il colorante ok basta avanza così dopo miscoliamo e prendiamo l'attivatore questo è la colla eccolo lo dobbiamo aprire basta avanza così e mischiamo 3 2 1 ci togliamo la benda che colore guardate e ora aggiungiamo un pochino di bicarbonato lo metto così e basta avanza e mischiamo ci sta già attivando guardate aiuto che casino allora ora aggiungiamo ancora un pochino di liquido per le lentine attivatore attivatore è uguale attivatore è uguale ecco guardate e usiamo le mani un pochino di liquido per il movimento un proprio risultato un proprio risultato vabbè è troppo appiccicato mettiamo mischiamo non basta avanza è uno slime tutto pronto brillantinoso come voglio attivatore giallo o oro come lo chiamate voi fatto in casa per voi ciao